E' appena arrivato Vittorio Sgarbi, che devo dire che sono una cosa molto breve, quando tu hai firmato questa legge, io non ti conoscevo, allora sono andato da Sgarbi e gli chiedo Sgarbi ma tu sei proibizionista? No, sono antiproibizionista. E ha firmato subito in manifesto connettivo. Prego Vittorio. Grazie a tutti. 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 L'ho detto per primo e oggi Speranza dice che bisogna stare all'aria aperta perché è meglio che stare al chiuso e qui ci hanno scostretti. Tu dici una cosa che è un atto dello Stato contro una libertà privata. Ora, drogarsi nei termini di assumere la cannabis è un fatto privato in cui non possiamo immaginare che un governo o un partito assuma una posizione proibizionista. La mia posizione è sempre stata vicina a Pannella, nonostante che anche in questo tentativo di mettere insieme le cose lontane io sia stato molto amico di Buccioli ed ero contemporaneamente antiproibizionista. Mi sembrava che se uno vuole andare a fare una terapia d'urto e liberarsi della scimmia attraverso Muccioli può anche farlo. Quindi non posso dire che avesse sbagliato. I suoi metodi brutali sono arrivati fino al processo penale. Non so fino a che punto, giustamente, forse sbagliando, comunque certamente la questione di San Paternano è molto forte. Ma ritengo che invece, molto meno violenta, la posizione gandiana dell'antiproibizionismo sia quella che dice che ognuno decide la sua vita. Se io voglio uccidermi non ci può essere lo Stato che ve lo impedisce. Se io voglio drogarmi non ci può essere... Se poi io voglio drogarmi, qui abbiamo un amico che è stato in AN e oggi vicino a Fratelli d'Italia che è Bellucci, se io voglio assumere droga a sinistra o a destra, l'essenziale è che lo faccia in limiti che non mi sono letali. Quindi lo Stato potrebbe arrivare a impedirti di fare qualcosa che ti porta per dissenatezza a morire. Ma possiamo dire che la cannabis porti morte? Addirittura un tuo ex collega, anche lui che fu riuscito da 5 Stelle, si chiama Ciampolillo, diventato famoso perché all'ultimo momento votò l'ultima fiducia a Conte, veniva da me nei mesi della più dura battaglia contro le misure governative per il Covid a dirmi cannabis è dimostrato da qualche parte del mondo che è curativo per il Covid. Allora, è più l'aspetto curativo della cannabis che non l'aspetto pericoloso e che porta malattie. Non mi risulta che nessuno che abbia fumato o preso asciso o preso cannabis si sia avvicinato alla malattia. Allora, come può lo Stato, il partito o un partito, un partito rispetto ad un altro, dirti no? Come può essere proibizionista? Il proibizionismo è lo strumento più pericoloso per consentire, come dire, strada aperta a tutto quello che avviene illegalmente. Cioè la parola di Pannella, che era di legalizzare la droga, era il modo che lui riteneva, io ritengo, più giusto per impedire la criminalità organizzata, perché non è che se tu proibisci la droga muore. Tu proibisci e in tutte le forme di antiproibizionismo favorisci la criminalità che si introduce nello spazio che tu le lasci aperte. Quindi legalizzare vuol dire controllare, legalizzare vuol dire dosare, legalizzare vuol dire consentire che tu possa controllare con la ricetta medica, con qualunque strumento, quello che uno assume. Ma proibire vuol dire aprire un grande mercato clandestino in cui entra la mafia, in cui entrano gli interessi personali, in cui entra la mancanza di limiti e confini, in cui entra anche la corruzione della droga, perché può essere alterata e venduta, quindi pericolosa rispetto alla sua purezza. Penso alla cocaina e a quanto impurezza è meno grave di quanto sia invece contaminato. Penso che quando qualcuno, vedendo come io vivo, mi ha accusato di essere drogato, io ho una generazione così alta che non c'era a scuola, quindi non posso dire di aver scelto, non appariva, è a scuola che si comincia pericolosamente a imitare i propri compagni. Mi dicevano sgarri di prendere la cocaina e rispondevo se incontro la cocaina si eccita lei. Quindi io ho già risposto la mia posizione personale, però nessuno mi può proibire di prendere o non prendere una sostanza, salvo che non sia letale. Allora, quelli che dicono no, come i compagni, gli amici di centrodestra, sono sicuri veramente che cannabis porti la morte o porti malattie gravi? Se questo non è, la tua legge passa de plano e non perché la vota uno di destra come io non sono, ma perché la ragione dovrebbe dirci. Lo Stato può arrivare soltanto a impedire ciò che è un danno oggettivo, non ciò che è una scelta personale, non ciò che è la mia volontà di decidere della mia vita. Ora, io sono convinto che larga parte delle zone di centrodestra assuma droghe, droghe leggere, droghe di varia natura, ma non è che la sinistra ha una vocazione, come dire, suicida e la destra ha una vocazione invece di tutelare la salute delle persone, perché allora, ripeto, dovrebbe proibire l'alcol e proibire anche il fumo. Viceversa, in questo periodo terribile di Covid abbiamo visto che lo Stato ha posto mille limitazioni, ma ha imposto e consentito la vendita del fumo. Basterebbe questo per dire che non c'è coerenza in una posizione politica che sta dalla parte del monopolio del tabacco e quindi della legittimità che nessuno ha discusso del fumo, se non io, che l'ho detto fin dal primo giorno, che occorreva stabilire che anche le tabaccherie erano chiuse, e compenso si mettere a discutere su una proposta come questa, facendo da diventare un fatto politico. Ciò che è privato deve rimanere privato, ciò che è morale deve rimanere privato. La politica si deve occupare di questioni che riguardano i problemi della società, non le scelte dei singoli. E' per questo che io sono naturalmente antiproibizionista, la ritengo la misura più giusta per impedire l'attività clandestina e la criminalità e ritengo che voi avete fatto una cosa che è, come dire, assolutamente non pericolosa. Sarebbe più difficile riuscire un giorno a far passare una legge perché ogni droga sia, con le dosi stabilite, legittima. Non perché fa bene o fa male, ma perché il bene o il male lo decido io. Io nella mia vita decido cosa assumere. Se voglio assumere una sostanza che può essere pericolosa, ne ho, vedevo avere la piena consapevolezza. La libertà individuale non può essere in alcun modo coartata o limitata da un atto politico o da una scelta di una maggioranza o da una volontà di una parte rispetto all'altra. Per questo avete fatto una cosa normale, mi auguro che sia la Lega che i Fratelli d'Italia individualmente votino questa legge ritenendo che ciò che appartiene al privato debba rimanere in quell'ambito e altrimenti facciano la legge contro il tabacco e contro l'alcol. Grazie mille Vittorio per questo contributo che penso rimarrà negli andami della Camera. È uno dei interventi più sensati a favore dell'antiproibizionismo che abbia mai sentito.